Allora ci siamo, ci siamo tantissimo, allora prima di tutto dobbiamo dire una cosa, devo dire una cosa molto importante, ho preso Ghostface è bello sì, è una versione alternativa a The Shape e ci sta, come personaggio mi piace tantissimo il suonet shroud, il fatto che si può crouchare come i survivor tra l'altro si può abbassare meglio, guarda va guarda guarda abbassare meglio dei survivor può andare, infatti nel, andiamo a vedere un attimo vedi così anzi in realtà forse ancora di più se cammina, si abbassa, si ingobisce un bordello quindi boh, io boh eh però, allora innanzitutto guardiamo i suoi no, sì, i suoi perk i perk che uso io sono proprio questi, non è che sono viola o superiore, no, sono proprio così sono Bittermurmur, Noed, Furtive Chase e Unrelenting allora, prima di tutto vorrei elevare Furtive Chase perché, eh, questo qui mi serve perché così posso capire dove andare verso dove sta andando il survivor e verso dove devo andare io ah, tra l'altro i rank, giustamente, si sono resettati poi c'è il Noed, vabbè, non ne parliamo nemmeno Furtive Chase e Unrelenting mi sembra abbastanza buono sinceramente, dicendo queste cose qua non mi voglio aspettare un'ora per fare una partita dove troverà anche uno non mi interessa, non sono interessato ah, tra l'altro eh, sto facendo una scalata per il il The Dard che secondo me potrebbe sinergizzarsi a metà anche con il No Meter perché il No Meter ti fa iniziare con metà vita quindi sei one shot ma anche con eh, già lo sprint utile che è molto, sì, utilissimo proprio volevo oggi per trovare, provare un personaggio nuovo ovvero ehm mi serve per vedere Ace Visconti vuole me che Ace Visconti o Ace Visconti eh, è inutile perché non ti rende nessuna cosa buona a te dà qualcosa di buono agli altri quindi preferisco usare Dwight per questo o anche Fengmin che aiuta molto con i generatori se li trovo abbiamo questo Jake Park che già sta votatore però allora io cosa gli ho messo a questo perché ah, Iron Will oh no c'è una faccia da culo si è Ghost Face cosa fa lui? può difendere gli uncini molto facilmente soprattutto se sono due vicini se sono due vicini hai vinto perché gli altri vanno a salvarli non è che sono dei pezzettini di Adram e li lasciano stare perché prendi più punti addirittura di scappare che a salvarli qua c'è un riferimento ad una canzone better be dead by daylight oh ciao no è il dottore oh no il dottore no vabbè intanto gli facciamo il generatore che se ne frega però no il dottore che non che se ne frega eh oh mio dio devi correre devi scappare devi andare via vabbè tanto era con quello l'ha agganciato però allora devo andare a salvarlo io ok eh questo potrebbe essere un grosso problema perché allora lui è lì insomma in questo momento ah ma non l'aveva agganciato ah ma è lì ok allora dobbiamo rischiare dov'è dove è andato con l'altro ah qua il totem se è il noed vediamoglielo magari ho culo no non posso aver culio però ma comunque lo sceglie lui ah lì c'è un generatore sì però mi dispiace lasciarlo lì a morire Joseph però vado a vedere se campera se fai scampano mi sembra molto probabile perché mi sembra uno che possa collaborare col cazzo no non è vero eh mi ha visto eh eh sì che mi ha bestia non fatti non fatti fare la canzone perché bestia ok va bene sì è non me l'esperto oh le parole c'è il mio clone ti prego vai no c'è il gancio a fianco qua no è vero è Dawn e Dawn cosa fa cosa fa ah no perché l'ha visto l'ha visto però non fa una buona scelta eh non dimmi che mi manda nel basement perché non saprei cosa dire cioè guarda quanto lontano mi ha portato tra un po' quanto mo se l'ha a fianco via ecco oh madonna prego va bene allora ho visto che quelli che quelli là avevano un medikit eh lo avevano lo possedevano un sesso però qua c'è un sesso però qua c'è un sesso però qua c'è un un sesso però qua c'è un l'altra neo non so oh Nia si dice Nia ancora mi squaldrina non mi puoi dire questo bestia yes bitch cazzo di mappe io non so so nella mappa di quella lì di Springwood solo lì so dov'è non mi wiggle nemmeno no mi wiggle va 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 che lezzo a niente a me erano già due mi salino eh oh yeah allora potremmo dire quattro parole per questa partita cazzo di mappe neanche per Meg ma neanche per Nia Carlson ma come cazzo si chiama quell'altro no neanche vabbè che schifo si 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 ovvio vediamo un po' cosa avevano allora io avevo un perché di Adrem lui zero ah lui aveva tutto quanto viola mmm non so che non so di chi era ah è quello che si è scollegato perché dai su perché mettersi magari qualcosa di suo personaggio quando tu puoi mettere cose di personaggi esistenti poi lo aveva Arlanting all'uno base insidioso all'uno base overchard all'uno base se questo qua non aveva mai giocato con il dottore e ha vinto ma perché neanche ho mai giocato col dottore perché secondo me lui non fa niente in realtà non è secondo me non fa niente se ti fa la scarica elettrica ogni tipo trovare però oltre a quello non fa nient'altro e questo è un problema maggiore quanti punti ho preso tra l'altro 14.000 ah c'è peso piuma peso piuma dispiace in questo momento ah David King si chiama ok devo livellare lui guarda che mi toglie la vabbè c'è il medikit c'è il dead hard al 2 al 2 diciamo dai no di 2000 che palpebre poi che altro abbiamo morgi ah posso fare anche questo no non lo faccio perché poi è tipo la allora facciamo un'altra partita però con lui ma ah no puoi scioppare vai allora David King non pensavo fosse un personaggio così in questo modo avesse delle cose così forti cioè dead hard ti può salvare in non occasioni magari tipo hai visto la come si chiama la cacciatrice quella tizia lì bastarda molto cosa fa ti lancia le cose tu puoi predictarle in qualche modo se non sei abbastanza veloce magari hai un malus riesce a usare il dead hard se ti colpisci già una volta mentre se hai il no meter se hai il no meter tu parti già con metà vita quindi puoi già usarlo il dead hard però tira l'effetto esausto per 60 secondi e l'effetto esausto non si riprende se il countdown non va se tu corri devi stare fermo abbassato cosa camminare non devi correre frattutto ma non devi correre ok e e se GM sta usando molto questo personaggio qui ma lui non sa il suo potenziale io andrei anche di questo di questo qui perché ha il decisive strike e come noi tutti sappiamo il decisive strike può salvarti di più il dead hard perché il dead hard è qualcosa di end game magari no o magari si no end game o magari quando devi fare rete dei troll perché comunque quando fai il dead hard sei invincibile è molto buono contro piramide ed per esempio ma qui non sta salatando la partita o sbaglio no? non starta proprio proprio niente beh si ah e ho trovato prima stamattina ho trovato un uno era rank due ed era arabo ora non vorrei dire niente questo brutto signore cos'è cos'è sto schifoso cos'è sto schifoso cioè è easy da usare e poi c'è quell'altro che è inusabile io dovessi prendere tutti i killer un giorno con le cose ridescenti che ne ho già 2000 ieri ne avevo zero perché ho preso un ghostface c'è e neanche se dovessi avere 100 miliardi di questi schifosi di 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 prenderei il come si chiama freddy kruger non prenderò di mai è molto meglio un ghostface che si che lurca nelle ombre e qui non lurca per il match però lurca per le ombre quando ti attira la sedia quando vai a bere quando dici che non carica le partite e che partita allora due claudette morelle una inutile una buona una buona e una inutile che sono io si ma in teoria una squadra dovrebbe avere Dwight perché ti aiuta con i giuratori magari anche a fare altre cose a subisconti fengmin e david king david king può praticamente ah lobby perché se soltanto lobby verdi mi stanno capitando è strano è strano che solo lobby verdi stanno arrivando per noi però boh 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 ah e non mi lamento però si ah non ha nome non ha i have no name r dov'è cleaner chi si ricorda cleaner di gmod al flash 2 volevo dire ammettito su e sui ah ma perché non ho metto nei numeri basta mettere i numeri come le vocali non si può fare non è possibile non si dovrebbe fare no ah no provare il pudding pensavo che fosse il mio allora forse non avevo neanche le torte Pierrick io spero che quello che tu hai detto sia vero però veramente ovviamente potevo avere un 416% di punti in più si prende e si no no giusta no ma tra l'altro se non l'avete già presi questi 444 444 punti sangue perché non non siete entrati in partita mentre io che sta rientrando piano piano uno dei miei giochi preferiti di momento ci sto giocando quasi no non è quasi ogni giorno perché voglio sbloccare il il dead hard ah no questa lampa qui la conosco molto molto bene soprattutto questo questo generatore lo conosco meglio di tutti quanti è quello peggiore lo conosco è quello là che tira più skill check se è cool o no ecco vedi allora dobbiamo stare allora questa è una mappa molto non è molto ma buonina per lo spirito se non trovi lo spirito che fa che fa cagare no come è successo a me allora se c'è lo no c'è lo spirito perfetto ma se io spero che non fossi tu quella ad essere ad essere stata appena colpita perché sennò ti arriva un copino nel muso eh non è il tuo ma chi sa chi è io sono sempre molto curioso di capire chi è perché io quando le pochissime volte che faccio il killer perché sai come non mi vanno si e no vabbè tu qui e tu stai vedendo questo video hai visto che c'era un pic cell di vista ora arriva da noi ora adesso è un evento sbuccia arriva da noi no scherzavo ok ho fatto una cazza secondo me se c'è il dottore l'ha escuito no perché non prendo punti ed è quello che devo fare mi piace ma no 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 ma non penso c'è il dottore no no potrebbe essere uno delle cibere tranquillamente no no scusami prima il totem si è ma che sto così cerca di liberare ma è un knob se non c'è ci vi sconti non ti devi provare non devi provare scherzavo no no scherzavo puoi farlo anche ugualmente tanto nelle partite in cui io sono killer c'è il 100% di liberarsi non il 4 bestia oh è great I'm the great papyrus sì però due no i miei ammazzi io non so che dirti se non è il nurse perché sto trovando sempre quasi sempre nurse ho trovato nurse ho trovato anche Michael Myers quindi se c'è Michael Myers sapete perché perché alcuni lo rappresentano ancora abbastanza si è no che cambiamo posizione no se poi vabbè è già a metà quindi va bene comunque speravo io spero veramente che io non avessi delle torte questo che era una Claudette Morel mi sembra con tu burda lo stai facendo David King cioè io v è lo spettro è lo spettro perché è invisibile no chi è no legion legion scarso no 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 non lo posso lupare non lo posso lupare cosa fa cosa fa ma è femmina è legion quell'altra stia ho sbagliato no eeeh bestia eeeh 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 dai che ti faccio prendere tempo vabbè vado di qua tu tu speravi eh si mi stavo dimenticando che può fare queste cose no 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 a begger mi può ammazzare però yes di qua yes bia 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 is nene avete visto che non è andata nemmeno non è andata nemmeno no però chiariamoci perché perché non hai fatto il colpo cosa fai mi ha perso non ci posso credere no col cazzo che mi ha perso ovviamente non mi ha perso che pensi con cliente scarso cosa di cosa stai insinuando no no lui è scarso oh però 2 gen l'ho tenuto per tutta la partita l'ho tenuta e quell'altra lì no per Michael Jen mi devono venire a salvare però eh mi devono per forza di cose venire a salvare io non mi libero perché ovviamente io solo 0,2% lì di poter scappare però quella cosa col The Dard lo no aspettate cosa fate non potete fare quello che volete fare no non dovete farlo no non dovete farlo voi che pezzettini eh guarda mi è arrivato Legend e gli fa il culo a tutti quanti se siete in tre almeno uno che viene qua guarda 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 la biga ah niente poi andiamo a vedere i rank di questi qua eh poi andiamo a vederli se me qua troviamo anche un rank 50 cioè fanno i generatori e ci sono io con metà vita per gli altri salvate ecco adesso guarda adesso viene adesso che la prossima volta muoio guarda guarda che bestia io io non non c'è quella merdina lì eh va 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 ma come minimo adesso arriva come minimo allora adesso io mi metto qua no scusami non volevo c'è con quell'altro bene adesso io so che sono riuscito yes yes di più ce l'ho dietro no 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 ed avanti a me non mi tocca salite d'ardo no ma dai corro 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 non mi ora non ora vepre addio io non vi salvo voi avete aspettato me muerete tutti